Quadro quasi completo nei 77 comuni al voto in provincia di Varese. Solo due i centri in cui si deciderà il ballottaggio e in entrambi i casi sarà centrodestra contro centrosinistra. A Mannate sfida tra Sandro Damiani che ha ottenuto il 31,38% e Nadia Cannito con il 27,65%. A Samarate il sindaco uscente Enrico Puricelli con il 42,58% al primo turno sfiderà Alessandro Ferrazzi che ha ottenuto il 29,20%. Il voto amministrativo di questa tornata premia i sindaci uscenti riconfermati nel 59% dei casi. Sei volte su dieci dunque gli elettori puntano sulla continuità e lo fanno spesso con percentuali bulgare come a Cunardo e Rancio Valcuvia dove Mandelli e Castoldi hanno trionfato con oltre l'89% delle preferenze. In altri due casi invece la conferma è stata davvero risicata. A Mercallo Tessarolo ha vinto per otto voti, a Bedero Galli ha superato la sfidante Sportelli per una sola preferenza. Può però sorridere per il suo quarto mandato alla pari di Frontali a Marzio e Galbiati a Castello Cabiaglio. Ma c'è chi fa addirittura meglio, quinta volta da sindaco per Alberto Rossi a Mesenzana e Claudio Montagnoli a Darsago Seprio. Capitolo affluenza, i comuni con il dato più alto sono stati quelli meno popolosi, Duno con il 77,10% e Tronzano-Lago Maggiore con il 72,02%. Meno della metà degli elettori ha votato invece a Mesenzana, 43,81% e Cunardo, 45,96%. Infine erano dieci candidati sindaci in solitaria, sono riusciti tutti a battere lo spauracchio quorum. Situazione davvero singolare invece nella vicina Binago, in provincia di Como. Dopo l'esclusione di due liste era rimasto un solo candidato sindaco in lizza, ma a votare è andato meno del 40% degli aventi diritto. Quorum non raggiunto e commissario in arrivo.